Musica Oggi a Big Mat Fratelli Tenaro è un'azienda leader sul suo territorio perché con la sua proposta riesce a coprire un'area di prodotti completa sia dalle terminali che dell'edilizia e di materiali estetici abbiamo tre punti vendita, ne stiamo aprendo altri due e crediamo che il territorio oggi ci riconosce come un'azienda leader La vendita del cemento negli ultimi anni rispetto a qualche anno prima si è abbassata perché ha preso sempre più spazio una tipologia di prodotti tecnicamente più avanzati che sicuramente oggi la fanno da padrona Il cemento qualche anno fa era un prodotto unico che nel tempo è stato sostituito sempre da Heidenberg con dei prodotti tipo il Pai Forte, il Plastocem che sicuramente sono più adatti a quello che può essere l'evoluzione stessa del cemento Oggi Heidenberg ha sicuramente avuto un processo anche innovativo su quello che è il campo del drenante e secondo me è un qualcosa che può avere sempre più spazio soprattutto sul nostro territorio Il PNRR già sta dando i suoi risultati perché diversi appalti sono partiti e stanno già dando un buon successo sul territorio Il Ponte è un impegno importante che lo Stato assume e che se parte per noi è un grande vantaggio e quindi ci aspettiamo da entrambi moltissimo